Pesaro punta ad una città sempre più pulita e per farlo rimbocca le maniche ai percettori del reddito di cittadinanza. Dalla cura del verde pubblico a pulizie e manutenzioni di strade e marciapiedi si sta perfezionando un accordo fra il servizio verde e manutenzioni del comune, marche multiservizi, assessorato ai servizi sociali e ambito territoriale e sociale. Un ambito che sarà centrale nella selezione degli individui percettori di sussidio eventualmente da reclutare per queste mansioni. Stiamo avviando le procedure per avere la possibilità di utilizzare 10-20 soggetti che stanno percependo il reddito di cittadinanza possono essere impiegati in lavori socialmente utili dalle 8 alle 16 ore settimanali quindi il nostro obiettivo è creare quattro squadre almeno di quattro elementi che vengono distribuiti nella città per la pulizia dei marciapiedi dei cigli stradali tutte quelle pezzi di città che attualmente ci vengono segnalati dove la gente maleducata perché ovviamente non è che crescono le cicche le cartacee crescono da sottoterra e sporcano lasciano lì lasciano tutto in giro e il servizio che Marche di Montesservizi sta facendo attraverso l'intervento di questi percettori di reddito di cittadinanza potrà essere ancora più efficiente, efficace e rendere la nostra città ancora più pulita.